Emergenza questo pomeriggio per un'allarme bomba a Oneglia alla biblioteca Lagorio, ex sede del Tribunale d'Imperia in piazza di Amicis. Davanti all'edificio ubicato tra via Belgrano e via De Sonaz sotto il colonato dell'edificio, infatti è stato rinvenuto un pacco sospetto e il traffico in zona è stato subito bloccato. Prontamente sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia scientifica e la guardia di finanza. Il comando provinciale della guardia di finanza sorge proprio davanti alla sede della biblioteca e della segreteria provinciale della CISL. L'oggetto sospetto è stato poi fatto brillare dagli artificieri inviati dall'acquistura del capoluogo imperiese. Al suo interno erano contenuti solo dei vestiti e cosmetici. La biblioteca ricordiamo che è chiusa da diversi mesi.